Il pregevole gol segnato contro l'Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia lo ha freggiato del titolo di match winner, di certo roba non da tutti i giorni per un calciatore con le sue caratteristiche tecniche. Questo avvenimento sembra quasi aver acceso la scintilla della volontà da parte di Giuseppe Marotta di concludere al più presto l'operazione di prolungamento di contratto, ma la verità è che l'intenzione era nell'aria da tempo. Soprattutto perché Simone Inzaghi non può fare a meno di lui nel momento di assoluto bisogno, quando Denzel Dunfries è a corto di energie per incidere lungo la corsia destra oppure serve man forte come braccetto difensivo di destra laddove Milan Skriniar viene messo da parte. Matteo Darmian c'è, così come questo tanto atteso rinnovo. Ora è ufficiale. A seguire il comunicato, FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmiana, il difensore classe 1989 sarà Nerazzurro fino al 30 giugno 2024. Darmian potrà dunque ambire ad aspirare a diventare uno dei senatori dell'Inter dopo il suo arrivo in Nerazzurro nel 2020, a seguito di esperienze di rilevanza internazionale con le maglie di Torino, Manchester United e Parma. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.